Tempo di bilanci e non solo in Casarezzo per quanto riguarda il calcio giocato ma soprattutto per il mercato che si è chiuso con l'arrivo in Amaranto di una rosa completamente nuova. A parlare in sala stampa è il direttore dell'area tecnica Roberto Gemmi che fa il punto della situazione dopo in pari interno alla prima di campionato contro il Como e alla luce anche di una campagna acquistica cambiato volto alla prima squadra allenata da mister Zottili. No, rammarico non ne ho, poi se mi dici che sono contento io per carattere come ho detto anche prima non mi accontento mai quindi sicuramente sono uno che pensa sempre di poter fare meglio di quello che si è fatto, infatti mi godo anche poco diciamo le soddisfazioni che possono arrivare quindi sono contento ma si poteva fare meglio nel senso per un discorso caratteriale. Ma la qualità migliore secondo me è il gruppo e questa grande voglia di stupire perché è l'elemento che ci deve unire, ci deve entrare in testa, deve essere unico e deve stare sempre ben fisso nella testa per i 100 minuti della partita perché con la dimostrazione anche della settimana scorsa se noi non siamo al 100% per tutta la partita poi le cose, questo campionato che è un campionato difficile con squadre importanti può creare problemi però sono fiducioso che noi questa lezione ci sia servita. Io sono una persona molto equilibrata e pragmatica, c'è sempre il rettangolo di gioco che fa capire dove puoi arrivare quindi è inutile dire o pensare, c'è il rettangolo verde che ci dirà dove andremo. Le trattative sono tutte belle e danno tutti quanti la stessa adrenalina quindi non c'è una più bella o meno bella o più che si è stato soddisfatto di più o meno. C'è stata quella più lunga, quella meno lunga diciamo, le ultime, quella di Moscardelli, Grossi e Arciteacono sono state quelle più lunghe però non è che le altre abbiano enfatizzato oppure abbiano dato meno adrenalina, quindi sono tutti uguali. Non ci sono solo due attaccanti di loro, ce ne sono quattro con due esterni che sono Yamica e Arciteacono che possono fare gli attaccanti. Come dicevo prima abbiamo fatto una scelta di avere un centrocampista in più per dare anche la possibilità di poi fare anche cambiamenti tattici. Quindi abbiamo pensato che forse era meglio mettere un giocatore in mezzo al campo con caratteristiche fisiche diverse e che possiamo andare anche a tre. Sono convinto che la squadra farà la sua partita, l'attenzione che deve avere, preparerà la partita nel miglior modo possibile. Non mi aspetto niente, sono convinto che dimostreranno di andare avanti per l'obiettivo che hanno, quello sempre di stupire. Non mi aspetto niente, non mi aspetto niente, non mi aspetto niente.